Con questo convegno abbiamo portato un contributo di idee ma anche di analisi della realtà economica della nostra regione. Banca d'Italia ha pubblicato dei dati che fanno riflettere perché la nostra piccola media impresa fa sempre più fatica ad accedere al credito, l'esportazione è un dato negativo in controtendenza rispetto al resto d'Italia e la cosa peggiore è che il prodotto interno lordo è sotto 4 punti rispetto alla media nazionale. Bisogna fare qualcosa perché il finanziamento alle imprese come è stato concepito negli ultimi anni oggettivamente secondo me non funziona, molti bandi e molti contributi arrivano troppo in ritardo rispetto al bisogno delle imprese e ho lanciato un'ipotesi di creare un private equity che sostenga le nostre micro imprese per dargli quel capitale per crescere, per andare sui mercati e per essere competitivi. È un'idea che cambierebbe il modo di finanziare e di dare un contributo reale alle imprese. Questo va anche alla verifica dei fatti, però in questo momento sicuramente la nostra piccola media impresa sta soffrendo più nelle Marche che in altri territori.